Buonasera, benvenuti a un nuovo in linea con l'economista, giornata chiave, siamo agli inizi di novembre, ringrazio comunque per, vedo tantissimi di voi nonostante siamo in un ponte festivo, quindi davvero grazie di cuore, sempre per la fiducia e per essere sempre qui con me, saremo insieme 40-45 minuti come sempre e cercheremo di, diciamo, vedere un po' insieme, no? Non solo qual è la situazione del mercato, ma anche cosa succederà, no? La famosa settimana prossima avremo le elezioni il martedì 5 e poi la Fed il giovedì 7, è una partita a scacchi che si sta giocando tra i due sfidanti, quindi Trump e la Kamala Harris, non vi voglio ammorbare con i settori dove investire se vince uno o l'altro, quello già avete parecchi articoli da leggere anche su investire molto pezzi. Più che altro voglio fare un attimo il punto della situazione, non vi voglio trattenere troppo perché è anche giusto un po' sfruttare questi momenti festivi, ma voglio darvi una visione concreta della situazione. E a scanzo di alcuni equivici che ho letto un po' dappertutto, vorrei un attimino stemperare anche un po' questi movimenti a ribasso di cui vi avevo già parlato in altre occasioni, che sono tipici della stagionalità preelezioni, quindi l'aumento leggero comunque della volatilità, anche alcune prese di profitto perché i mercati erano un po' troppo estesi, ci sta pure, ma non è cambiato assolutamente nulla, il discorso secondo me dovremo riaprirlo quando avremo, ci vedremo poi, mi sembra più che altro vedremo poi a fine novembre, vedremo un attimino che cosa sta facendo il mercato, se continua a salire, se andrà un po' più in laterale, andrà più lento, ma tecnicamente ci sono tanti elementi a favore che è molto difficile parlare di un mercato in rosso quando abbiamo la liquidità che arriva dalla Fed, i dati di oggi non possono che confermare la volontà di continuare questo taglio dei tassi, ma anche i dati manifatturieri, l'economia americana sta bene, ma non benissimo, quindi bisogna un attimino capire che la Fed non è che può tirarsi indietro ma deve continuare a tagliare, la Cina abbiamo visto questo spettacolare stimolo monetario e fiscale, ci vorrà ancora del tempo e si metteranno altri soldi, quindi altri soldini che arrivano nel mercato e ovviamente questi trilioni di dollari, mi sembra che siano 6,7, che gli americani hanno depositati nei fondi monetari, nei conti deposito, che anche questi ovviamente dovranno in parte ritornare tra azioni, cripto e altri strumenti, quindi al di là dei fattori geopolitici, l'incertezza generale, il mercato è un po' nervoso, è un po' iperesteso, quindi anche se finora non è che abbiamo visto chissà quali ritracciamenti, perché poi alcune volte leggo pure le portate di giornali o blogger, diciamo mercati in rosso, mercati in caduta libera, allora cerchiamo sempre di, come vi ho sempre detto, non è che io sono di alzista perenne, perché qualcuno mi ha detto ma tu sei sempre long, no in realtà non è che sono sempre long, io seguo semplicemente il mercato, ecco. Voglio farvi capire che in questa situazione, sì, ci possono essere dei cambiamenti, ma dovremmo vedere ad esempio un aumento forte dell'inflazione, che per ora non c'è, dovremmo vedere proprio un cambio di paradigma della visione del mercato, non un semplice timore, gli investitori cambiano idea ogni volta che esce un dato, viene manipolato, a noi non è che interessa molto questo, sento sopra di dubbio le escalation avranno il loro peso, però in generale, devo essere sincero, non vedo grossi problemi, almeno per un bel po' di tempo. Io ho parlato di due anni, secondo me è un tempo giusto, poi è chiaro che magari l'anno prossimo avremo qualche problema maggiore da seguire, il problema dei rendimenti dei bond, dobbiamo vedere le politiche fiscali, fiscali e in generale le politiche che verranno applicate all'economia, secondo quale candidato vincerà. Io ovviamente sono a favore di Trump, ma per una ragione molto semplice, no? Perché, innanzitutto perché Trump è a favore delle cripto, e li vuole fare un'implementazione importante, poi perché sinceramente un cambio di governo secondo me è necessario. Ovviamente non è che Trump è il salvatore del mondo, ma è un businessman, io ragiono un po' più da imprenditore, diciamo, quindi anche il fatto che vuole implementare alcune politiche che aiuteranno gli investimenti e anche i consumi, ovviamente ci sono delle implicazioni riguardanti poi le conseguenze, però ricordate sempre che l'economia occidentale è basata sulla stampa di moneta, quindi fin quando si stampa entra liquidità, problemi non ce ne sono. Al di là di qualunque situazione difficile o meno, questa è la realtà dei fatti. Poi la Cina ha anche essa implementato questa politica, purtroppo chi sta sempre indietro siamo noi, non neanche commento questa legge del 49% sul bitcoin, proprio ci stendo un velo pietoso, non voglio commentare il fatto che in Europa non si parla neanche minimamente di fare una minima iniziativa fiscale e quindi lì ci stendiamo un velo pietoso. Anche le proposte di Draghi sono state accolte in maniera tiepida e se non si fa qualcosa in merito la situazione non potrà che scemare lentamente, ma questo è un tema che conosciamo bene, non voglio snocciolare troppi dati, ma se avete visto i dati degli ultimi mesi, soprattutto anche quello che è successo in Germania, per esempio con Volkswagen, abbiamo un'idea di una situazione che richiede atti coraggiosi e cambiamenti strutturali. Detto questo qualcuno di voi mi ha scritto, e ringrazio, mi hanno chiesto di quello che è successo in Spagna, purtroppo è una situazione che io ho vissuta, purtroppo quando avevo 16 anni nel 1998, a Sarno purtroppo ci fu la famosa avluvione, qualcuno si ricorderà, purtroppo è questa situazione, qui bisogna moltiplicarla, l'intera provincia di Valenza è praticamente devastata, qui da me abbiamo avuto solo una settimana di piogge, qualche strada, il leggero allagamento, ma niente di che. Ecco, ringrazio ovviamente chi mi ha scritto e mi ha chiesto se stavo bene, siete sempre molto gentili, però ho purtroppo degli amici a Valenza che hanno avuto dei problemi con la casa, quindi diciamo chi è delle zone di Bologna pure può capire, e sono quelle cose che purtroppo, un po' l'incuria umana, e poi ovviamente eventi eccezionali, è piovuto in pochi giorni, quello che la quantità di piogge non hanno, lì c'è poco da dire, e purtroppo è una situazione difficile, questo tecnicamente potrebbe bloccare la crescita della Spagna, perché sono quelle situazioni che richiedono vari punti percentuali del PIL, perché poi Valenza non è un posto qualunque, ma è una delle zone più ricche, se non la più ricca della Spagna, anche in termini di patrimoni personali, quindi vedremo un attimino che cosa succederà anche lei. Voglio altresì, e chiudo, ricordare che, ovviamente io lo dico sempre, nel bene e nel male, io mi espongo sempre, mi dispiace molto anche l'ultima sessione Scalping Live, faremo dei cambiamenti comunque alla prossima, sarà il 7 di novembre con la Fed, però purtroppo abbiamo preso un paio di sessioni con un mercato veramente impossibile da gestire, quindi cercherò come sempre di rimettere le cose a posto, abbiamo avuto due o tre sessioni un po' complicate, quindi ci siamo alternati un po', una buona o una cattiva, purtroppo il mercato non sempre quando lo prendiamo ci offre quello che vorremmo, quindi come sempre continueremo, io vi ringrazio ovviamente sempre per la fiducia. Ho fatto un po' una review rapida della situazione e adesso andremo a vedere ovviamente i grafici. Qualcuno già mi chiede di questa liquida? No, non credo che avrà conseguenze sulle ATF, perché poi mi sembra che la tassazione sugli ATF non cambierebbe in quel caso, quindi è un problema sempre di controllo, l'Europa vuole avere sempre tutto sotto controllo, quindi ci troviamo in una situazione in cui l'Europa continua a fare degli errori, nel senso, io avrei preferito che l'Italia invece di mettere sul piatto una legge che di per sé non ha nessun senso, avrebbe detto direttamente io non ho interesse agli investimenti in blockchain, tutto quello che è legato al mondo cripto, fine della storia. Tu così che cosa hai fatto? Non solo hai fatto un danno di immagine, ma hai fatto anche un danno a futuri investimenti. Poi non è che l'ha proposto, cioè sull'Italia mi sembra che anche la Danimarca l'ha presa in considerazione. Mettiamola così, diciamo che i rialzi che ci aspettiamo futuri per le cripto e il rialzo dei mercati azionali vuole evitare una fuga di capitali, quindi per esempio in Francia hanno proposto una exit tax, se ho visto bene, se tu risparmi più del 50% in un paese, se cambi di residenza fiscale devi pagare comunque la differenza alla Francia. Quindi diciamo che l'idea è chiara, non è una cosa complottista, ma l'introduzione di tasse sulle cripto, l'introduzione di exit tax è un modo per evitare la fuga di capitali che si è avuta nel 2021, ad esempio quando ci fu il primo mercato cripto e molti sono andati in paesi fiscalmente aperti, cripto friendly come Dubai, dove ci sono anche io, come vi ho detto io ho fatto questa scelta tre anni fa, totalmente legale, per cui se ho la possibilità di poter vivere in un paese dove sia fiscalmente che da un punto di vista il business mi permette di lavorare meglio, perché non farlo? Ovviamente in quei tempi c'era la pandemia, quindi gli stati erano occupati ovviamente con l'emergenza sanitaria, adesso ovviamente hanno capito l'antifona e vogliono evitare a tutti i costi, prima dell'introduzione dell'euro digitale, di non fare andare via più nessuno praticamente. Voi tenete presente che comunque questo è già una realtà negli Stati Uniti, perché se tu sei cittadino statunitense puoi andare a vivere dove vuoi, le tasse le devi pagare sempre. Allora, quindi non è una questione di non cambiare o cambiare, però purtroppo la sfissia delle tasse e dei controlli non permetterà, se non ci saranno dei cambiamenti, una crescita in un settore che sarà il futuro. Le cripto e tutti gli annessi e connessi sono il futuro, non lo dico io, lo dicono i numeri. Ci sono paesi come il Bhutan, per esempio, o lo stesso San Salvador che adesso va di moda, che stanno facendo degli investimenti di switchare l'energia, la produzione di energia verso un'energia digitale, quindi produzione, cioè minare Bitcoin e le cripto in maniera sostenibile. Tether per esempio ha fatto un investimento di un milione di dollari, la stessa cosa l'ha fatto in Uruguay, quindi basta leggere un po' e si vede. Io non sono a favore di pagare sempre, perché non sono il tipico lamentoso, però bisogna pagare il giusto, quindi è inutile andare a fare, ci sono discussioni molto difficili, però io personalmente ritengo che questo sia stato un clamoroso autogall, al di là che si farà o meno, è un clamoroso autogall, perché tu poi blocchi gli investimenti futuri in Italia in questo settore. Quindi vediamo come va, però non ho molto da commentarvi su questo, preferisco concentrarmi sui grafici. Detto ciò tolgo la telecamera e vi ringrazio per avermi dato questo piccolo momento di condivisione, andiamo a vedere, scusate ho sbagliato, andiamo a vedere un po' di grafici, ditemi se vedete il tutto, penso di sì, ok. Detto questo io cercherò di rispondere a tutte le vostre domande, le ho lasciate lì, mi sono un attimo ricollegato con quello che mi era stato detto, perché stavo parlando di cripto, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Prendo il dashboard e lo metto da parte e andiamo un po' a questa, a vedere un po' a questa situazione. Detto questo, andiamo a vedere un po' il Russell. So che magari Giorgio Angallo comincia con Russell, perché in maniera molto semplice ve lo dico, perché questo è un indice che comunque ha una struttura rialzista molto interessante, notate che comunque nonostante ci siano state delle fasi ribassiste, il Russell si mantiene solido. Vi dico di tenerlo in considerazione, perché se dovesse vincere Trump ci sarebbero degli spunti rialzisti molto importanti, incluso rompere i massimi precedenti e quindi avere la possibilità di vedere una situazione rialzista molto interessante. Per cui vi dico sinceramente tenetelo ad occhio, perché sono sicuro che qui potremo avere una fase di recupero molto importante. Per cui a partire da qui cercate sempre di tenerlo in considerazione. Voglio prendere un attimo lo standard poor e vediamo un po' insieme la situazione di questo mercato che comunque come vedete molti dicono qui crolla tutto, va tutto male, sì sì, alla fine vorrei capire che cosa è successo in quest'ultimo mese. Settembre è stato uno dei mesi più rialzisti in assoluto, cosa contro ogni stagionalità abbiamo fatto un altro 8%, poi sì è chiaro che da inizio ottobre stiamo assistendo a una fase metà ottobre leggermente laterale, ma spiegatemi di cosa ci dobbiamo preoccupare. Credo che avete tutti quanti visto con l'attenzione dei trimestrali dei Magnifici 7, no? E che cosa possiamo dedurre? Semplicemente che hanno investito tanto in questa intelligenza artificiale e semplicemente hanno bisogno di un po' di tempo, ma parlare addirittura di preoccupazioni mi sembra eccessivo. Quello che è giusto dire è che ci sono delle valutazioni in eccesso sugli utili dei prossimi 12 mesi, non so, Microsoft 33 volte, Apple 32 volte, senza ombra di dubbio ci sono degli eccessi e comunque le spese caricano sui ricavi, ma comunque le imprese per quanto gli utili sono visti in decelerazione continuano comunque a crescere, a un ritmo più lento ma crescono. Quindi comunque è un settore che richiederà il suo tempo e senza ombra di dubbio quando ci sarà il crash sarà quello che pagherà di più, però se devo parlare in forma sincera mi sembra un po' esagerato. Quindi cerchiamo ovviamente di non farci prendere troppo ecco dal momento, perché questo è semplicemente un momento di nervosismo e volatilità prima delle elezioni e non cambia assolutamente niente. Gli indici hanno tutti i valori con una leggera oscillazione, prendiamo l'SAP che da metà ottobre fino ad ora avrà perso un 2%, stiamo parlando di un lasso di tempo di 15 giorni, c'è poco da dire. Questo è un momento in cui dobbiamo solamente aspettare le elezioni. Quindi vediamo un attimino se la situazione ci riporterà a rialzo. Allora, come sempre, poche parole, i famosi 6.000 punti sono alla porta e andremo a cercare prima di tutto questi livelli, ma non mi nascondo che possiamo andare ben oltre. Il mese di novembre dovrebbe avviare una fase parabolica per i mercati, quindi dovrebbero iniziare ad entrare un bel po' di soldini, quindi tra novembre e dicembre magari non avere movimenti così forti come quelli di inizio anno, ma possiamo dire che dai minimi attuali raggiungere un 5%, un 6-7% non lo posso escludere. È molto, diciamo, ottimista, però ci sta tendo a presente che normalmente dopo le elezioni i mercati tendono a salire un bel po'. Probabilmente avremo un bel po' di movimenti laterali, probabilmente il mercato può scaricare un po', ma poi l'idea è quella di andare anche oltre i 6.000 punti. Ovviamente poi a fine novembre valuteremo la situazione. Quello che secondo me è importante è valutare un po' questi livelli dove ci sono stati un po' di tafferugli, ma nel complesso notate che dal 5 agosto vedete quando poi i mercati in questo punto hanno iniziato l'inversione, hanno fatto anche i loro bei pullback, i volumi sono scesi, quindi alla fine non è cambiato assolutamente niente. Diciamo che se io mi dovessi preoccupare attualmente dovrei vedere almeno questa zona abbattuta. Siamo parlando di una distanza, non è enorme, ma in questo momento perché scendere così? Io vi consiglierei nel brevissimo di stare attenti solamente a questo livello qui, che è quello poi chiave, 5.650. Tutte queste zone dove i prezzi hanno poi evidenziato una resistenza, vedete, e poi è stata rotta. Quindi magari qui potremmo avere qualche tafferuglio se andiamo al di sotto, ma come vi ho detto bisogna un attimino aspettare il risultato alle elezioni e poi parleremo un po' anche di quali settori andremo a puntare. Ma prima è meglio vedere il Presidente. Noi comunque ci manteniamo positivi, vedremo ovviamente l'evoluzione, l'idea è arrivata almeno qui. Questo è per quanto riguarda l'SP. Andiamo a vedere il nostro Nasdaq. Scusate perché questo conticino lo uso un po' per fare qualche scalpo ogni tanto, quindi ci sono un sacco di freccette. Anche qui la situazione, c'è poco da dire, molte persone dicono ma qui il Nasdaq sta scendendo, sta crollando, ma in realtà non è successo niente, vedete anche qui. I prezzi, qui ovviamente parliamo di un indice molto più nervoso, ma vedete anche dopo il crash di agosto i mercati tra alti e bassi sono su minimi crescenti. I volumi si mantengono stabili, quindi i soldini sono entrati, poi avete visto anche lo Yen ormai, per ora di nuovo in impasse, non ci saranno cambiamenti di politica monetaria, quindi per ora fino a dicembre si mantiene di nuovo basso e quindi la risalita del dollaro temporanea sta portando comunque a utilizzare sempre il carry trade e quindi a usare lo Yen in prestito per comprare anche i tech. Per ora io qui l'unica cosa che diciamo vorrei tenere in considerazione, vedete qui abbiamo questo momento di accelerazione, sarei un po' attento proprio a questa candelina qui, quindi tra 19.004 e 19.000, approssimativamente 19.006 diciamo, diciamo più o meno la zona che mi interessa è soprattutto questa qui. Poi a partire da qui, diciamo, non posso escludere che il Nasdaq possa attaccare questa zona, ma realmente io mi preoccuperei solo sotto i 19.00, cioè anche se il Nasdaq ti fa un meno 5, meno 6, ma stiamo parlando di un indice ad altissima volatilità, con tanta liquidità, con tanti partecipanti, tante macchine, algoritme, c'è poco da fare, ma abbiamo fatto anche uno storno sui doppi massimi storici, quindi qual è la possibilità di salire altissima, il Nasdaq mi possa incluso, staccare i 22.000, quest'anno non lo escludo, quindi io mi mantengo un po' alto con i livelli, 6.000, 6.200 di SP, 22.000, cerco di essere un po' più alto perché se cominciano a partire gli uptrend qui si tirerà bene, per cui io starei attento a questa zona, ma nel complesso la struttura del Nasdaq è in una situazione palesemente di accumulazione, poi se ci saranno delle vendite continuative, come vi ho detto ci deve essere un cambiamento di sentiment in generale, non una giornata, una settimana non serve a nulla, il mercato se deve distribuire ci vorrà un bel po', quindi normalmente ci vogliono mesi, io per ora però mantengo, dovremo andare bene, io credo che saliremo almeno fino a marzo-aprile più o meno, quando poi statisticamente lì ci possono essere delle correzioni, anche perché poi viene il nuovo presidente, l'entusiava, magari qualche piccola correzione ci sta perché il primo anno, diciamo, di mandato solitamente è quando ci sono un po' di problemi, ecco, abbiamo visto con Trump, con la pandemia, con Biden nel 2022, quindi vedremo, per ora manteniamoci positivi, poi se i mercati ci danno un'ondilazione diversa, non ci sono problemi da questo punto di vista. Il DAO, io lo terrei strettamente sotto occhio per alcuni motivi molto semplici, proprio questi eccessi di valutazioni potrebbero temporaneamente portare a un bel po' di rotazione, vedete, il DAO ha fatto nuovi massimi storici, siamo molto vicini a un target annuale che io avevo messo, nuovo target intorno ai 42-44 mila, questa era la zona, ma sinceramente il DAO non cede, cioè ci sono grossi acquisti di utility finanziarie industriali, se avete visto un po' le statistiche, negli ultimi settimane ci sono stati delle performance ottimali di questi settori, quindi sia il DAO che il Russell che vi ho fatto vedere sono da tenere sotto occhio perché soprattutto con Trump potrebbero accelerare molto di più, poi anche, vedete, non abbiamo avuto, i volumi sono piuttosto bassi, vedete anche da qui questo martello riportato al rialzo tutto, abbiamo questo supporto sui 41 mila che tendremo in considerazione, ma più che altro mi preoccuperei magari solo sotto i 40 mila, ecco, ma sinceramente poi il DAO lo conosciamo a tante fasi di lateralità, quindi per ora diciamo staremo un po' attenti nel breve, abbiamo raggiunto un'area interessante sui 41 mila e otto 700, sarei attento a questa zona qui, ma in generale dobbiamo capire che se questa zona si mantiene non avremo particolari problemi, poi il DAO è un indice molto volatile, può recuperare tutto in poco tempo, quindi manteniamo la visione a rialzo anche qui con un target almeno a 44 mila, ho messo target un po' più alti soprattutto perché con le elezioni potrebbero partire delle fasi paraboliche, magari parte a dicembre, gennaio, non lo sappiamo, però è bene tenerlo presente perché poi entriamo in una fase tra le più rialziste dell'anno, diciamo la seconda parte di novembre, poi c'è il Thanksgiving Day, quindi ci sta che il mercato poi possa fare dei movimenti a rialzo o creare una nuova pressione bullish. Questo è un po' gli indici, giusto per darvi un po' qualche livello da tenere sott'occhio, ma niente di che, vediamo rapidamente anche gli altri strumenti. Io sto leggendo alcune domande, io non sono un grande investitore di bond, quindi ve lo dico, la situazione in Inghilterra è un po' particolare perché mi state parlando qui, un attimo che leggo meglio perché sennò non leggo tutto, dei gift inglesi. I tassi devono essere tagliati, sì magari per una speculazione, sì per questi, sì mi stai parlando ovviamente tra 1 e 5 anni, ci può stare, ci può stare però metterei sempre questi investimenti sui bond su un taglio non di lunghissimo termine, perché comunque lo dessi già il rischio che poi l'anno prossimo possono fare degli aggiustamenti con i tassi, se torna a stare l'inflazione, ci sta. Quindi fare un po' di attenzione su questo punto. Poi, sui dati occupazionali cosa ne penso? Ma guarda, sinceramente il fatto è che ci sono stati gli uragani e poi questi scioperi di 30.000 lavoratori nei porti statunitensi, quindi questo ha pesato un po', però il dato della disoccupazione il percentuale è rimasto uguale a quello del mese scorso e anche i salari sono saliti di 1,01, quindi questo non può fare altro che confermare il fatto che la Fed può tagliare i tassi, ecco perché anche per questo le borse comunque hanno reagito bene, nonostante comunque il manufatturiero non è stato proprio bellissimo, quindi in generale lo vedo positivo per vedere nuova liquidità. Aziende per il mining 2025, Marathon, sì su Marathon ci può stare, diciamo, se il bitcoin dovesse diventare legge, comunque tassata al 26%, sì andare a investire su aziende che comunque collegate al mondo crypto non ci vedo problemi, anzi la tassazione rimane al 26%, vi l'è detto la tassa non è tanto relativa al 42%, ma è il fatto di evitare che i cash out vengono fatti all'estero, questo è l'obiettivo della legge, diciamo, parla del bitcoin, l'exchange, non comprare un replicante, quindi secondo me sì, queste aziende hanno grandi potenzialità, ovviamente bitcoin più sale, più queste aziende faranno profit, quindi non vedo assolutamente perché non farlo. Ovviamente ripeto, ci sono tante opportunità, ma cercate di fare un portafoglio equilibrato. Andiamo a vedere un po' la situazione dell'euro dollaro che oggi ha visto un recupero velocissimo, ma molto breve dovuto al, ah questo di basso leggero del dollaro, ma vedete la struttura rimane complicata, 1.10 è la resistenza di tutta questa situazione, diciamo che in questo momento non vedo grossi problemi nel fatto che possa scendere ancora, perché vedete questo fu poi il punto di giro di agosto, ma abbiamo una M enorme, ritengo che la situazione, poi vedremo ovviamente con la Fed, ma ritengo che l'euro dollaro 1.07 ci possa arrivare, poi vedremo su questi minimi di marzo e maggio come si comporterà, la situazione cambierebbe solo se andiamo sopra 1.10, quindi l'euro dollaro magari ti fa un po' di sale e scende, ma con la politica della Fed è un dollaro che comunque sostanzialmente si mantiene debole e si mantiene cimentaria equilibrato, scusate, perché poi l'economia forte non permetterà più di tanto di scendere, quindi dato anche le politiche in Europa l'euro non credo riuscirà a salire più di tanto per ora, poi vedremo dopo il 7 novembre, però un giretto qui a 1.07 non sarebbe male per poi cercare qualche opportunità. voglio parlare un attimo della sterlina, perché anche qui vedete la sterlina sta avendo un po' di pressioni, ma ha raggiunto un livello molto importante, io mi aspetto che comunque ti torni a salire almeno un po', secondo me 1.28 è una zona molto interessante, ci potremo anche arrivare, ma se dovesse essere mantenuta può dare un bel segnale, la struttura comunque rimane impostata al rialzo, senza ombra di dubbio dobbiamo stare attenti perché se dovessimo perdere anche 1.26 potrebbero esserci degli affondi al ribasso, però nel complesso vi dico è vero che il dollaro rimane forte, ma la sterlina nel complesso non è che si è scesa più di tanto, cioè siamo comunque su valori che non vedevamo dal 2021, quindi io qui mi aspetto e comunque la sterlina riesca a mantenersi sempre come ha fatto solida e che realmente possa attaccare incluso 1.35 in futuro. Per ora starei attento a questa zona, qui potrebbero presentarsi delle grandi opportunità proprio su base mensile di acquisto, ovviamente per ora il trend rimane short perché abbiamo perso 1.32 e poi 1.30 quindi per ora cercheremo di arrivare a livelli più bassi. Andiamo a vedere un po' la questione dell'oro, non ho molto da dire qui, siamo arrivati a 2008, io ve l'avevo detto, avevo come target annuale, ma mi sembra che possa, cioè questo è un target oggettivamente era possibile, l'abbiamo raggiunto qualche giorno fa, mi aspetto che comunque l'oro qualcosa debba restituire. Ora, al di là del fatto che comunque la situazione è positiva c'è un po' di nervosismo, quindi qualche vendita ci sta. Dove possiamo arrivare? Io partirei dal presupposto che un livello chiave lo collocerei subito qui a 2007, che credo possa essere attaccato facilmente, ma in realtà è possibile anche arrivare in questa zona, si profilerebbe ovviamente una grande opportunità, ma se questi ribassi hanno vita breve, dureranno pochi giorni, c'è poco da fare, dipenderà da quello che succederà con le elezioni, ma l'obiettivo dell'oro comunque è arrivare a 3.000 dollari. Vi dissi, quest'anno avevo dei dubbi, mi rimangono sul fatto e possiamo raggiungerli, poi diventa ovviamente l'entusiasmo che può arrivare dei mercati, ma il target che abbiamo aggiustato da 2005 al 2008 l'abbiamo raggiunto in pochi mesi, adesso vedremo su questi 2007 come si comporterà, ma credo che possiamo avere anche un po' di storno, così come l'argento che ha toccato dei valori importanti e quindi diciamo che in questa situazione l'area dei 34 dollari è una bella resistenza storica anche per l'argento, quindi magari uno storno intorno ai 30 dollari potrebbe essere un'opportunità d'acquisto. Ecco, queste vanno viste sempre come opportunità d'acquisto e non è che l'oro adesso è finito, scordatevelo, non sarà così. Detto questo vorrei andare a parlare un attimo del petrolio perché qui la situazione è un... io continuo a parlare di short, ve lo dissi, il petrolio se non torna almeno sopra gli 80 dollari può fare quello che vuole, non cambia. Qual è il problema qui sul petrolio? Abbiamo due aspetti. Il primo, la OPEP per esempio vuole fare i tagli, l'aumento di produzione lo vuole portare a dicembre o magari i tafferugli, israeli, iran portano un po' di nervosismo, io personalmente ritengo che abbiamo spazi di discesa, cioè loro il petrolio ancora non ha trovato un equilibrio, sono sempre provenze ai 64 dollari, magari non ve lo faranno facile perché l'area dei 67 è stata molto manipolata e mi aspetto che questo livello verrà toccato. Tra i 64 e i 62 sì che potrebbe essere interessante può iniziare un'accumulazione. Ovviamente vi ripeto sempre la stessa storia, ve lo dissi anche l'altra volta, abbiamo bisogno che i 75 vengono mantenuti. Allora lì in quel caso il petrolio può iniziare magari un recupero. Secondo me, dato la prospettiva che il problema grave è la prospettiva della domanda globale che è vista al ribasso, secondo me un'area tra i 60 e i 70 dollari è più che possibile come range di oscillazione. Ovviamente il problema qui è legato anche alle politiche che verranno fatte, ma il petrolio è molto manipolato dai paesi produttori, quindi non sarà una passeggiata. Ma ripeto, anche se abbiamo avuto degli spike con l'Israele e non è cambiato nulla, la tendenza è quella di andare a cercare dei supporti più forti. State molto attenti su questa zona qui, vedete, questo è un livello storico del 2021, non è un caso che vi ho lasciato questa linea e voi vedete ci è andato una volta, ci sta attaccando un'altra. Se qui non torniamo sopra i 75 realmente è molto difficile che il petrolio possa invertire la sua direzione. Detto questo parliamo un po' dei vostri preferiti bitcoin, io qui potrei stare ora a parlarne, ma ho poco da dire, abbiamo raggiunto di nuovo i massimi storici, non avevamo dubbi su questo. Come può evolvere questa situazione? Ecco, anche qui io vi dico già e vi ripeto che la fase parabolica non è ancora iniziata. Il ciclo finisce ottobre 2025, comunque la presenza degli istituzionali e la liquidità che deve entrare e sono dei temi su cui bisogna avere un po' di pazienza. Non mi nascondo che ovviamente il range è stato mantenuto da marzo, siamo così, non è cambiato nulla e la presenza degli istituzionali si vede, però purtroppo bitcoin è uno strumento che ha bisogno di moltissima liquidità per salire. Quindi dipende, i soldi stanno entrando ma ce ne servono molti di più. Dov'è che può arrivare questa spinta? Ovviamente l'arrivo di Trump sarebbe una notizia positiva immediata per il bitcoin che a quel punto mi rompe un'area che va tra i 72 e i 74, dove ci sono ancora delle posizioni short sugli exchange che salterebbero e quindi un'area che va tra gli 80 e i 95 è facilmente raggiungibile entro fine anno. Se ciò non dovesse succedere, ovviamente se dovesse salire la camara, ve lo dico, qualche reazione negativa ci può essere. Però parlarvi che il bitcoin può investire la direzione mi sembra un po' troppo. Ecco, io rimango del parere che i 120k almeno li raggiungeremo l'anno prossimo, ovviamente ci saranno degli step. da verificare, ma anche la dominance di bitcoin purtroppo è ancora troppo alta. Molti mi hanno chiesto sull'altcoin season, no? E la cosa funziona così. La dominance del bitcoin è sul 60%. Quando bitcoin comincia a perdere dominance e quando i soldini si sposteranno anche su strumenti come Ethereum che rimangono gravemente indietro, no? Tipo Solana, AVE, CELINK e chi ne ha più ne mette. Il problema qual è? Che bitcoin ancora non ha raggiunto il suo reale target. Quindi secondo me l'altcoin season potrà cominciare solo se bitcoin arriverà intorno ai 100k. Allora lì potremo avere un passaggio di denari. Gli hoteler cominceranno a spostare i bitcoin nel senso o a trasformarli o a venderli sugli exchange perché qui l'accumulazione che si sta facendo è enorme. Non vi ripeto sempre le stesse cose altrimenti divento monotono e non credo sia il caso di dirvi che ormai siamo a un passo dalla meta. Senso un bra di dubbio teniamo in considerazione che se fra dicembre e gennaio non arriviamo su valori intorno almeno ai 90.000 la cosa potrebbe non essere positiva. Ma ripeto, il processo di accumulazione c'è, c'è l'interesse a far arrivare anche TF nuovi su Solana probabilmente l'anno prossimo e vi ripeto siamo in una tipica fase di inizio del nuovo uptrend quindi è normale che almeno fino a quando non passano queste lezioni la cosa rimane così. Incluso dopo le lezioni ci possono essere dei momenti ribassisti ma la fase più importante normalmente per le cripto comincia tra gennaio e febbraio quindi invito alla pazienza. Ovviamente come sempre ricordo che investire in cripto dipende sempre bisogna gestirlo bene, dosarlo in termini di rischio e ognuno deve capire che mette i soldini qui. Qui siamo bloccati da sei mesi la gente molti mi scrivono sono disperati ma quello è arrivato a 73 adesso è tornato indietro tutto quello che volete ma non potete pensare che vi portano il bitcoin a 100.000 velocità della luce o meglio lo faranno pure ma se tu non ci sei dentro non c'è chi non risica non rosica è molto semplice quindi anche qui non è cambiato assolutamente nulla c'è questo supporto tra 62 e 64 magari con la camala può scendere un po' ma che cambia bitcoin non è influenzato dall'esito delle lezioni bitcoin ha bisogno di liquidità molta di più di quella che sta entrando allora sì che partirà quella fase ecco perché vi ripeto ormai si tratta solo di aspettare e basta ok comportendo di ethereum purtroppo è stato un po' abbandonato ma stiamo parlando della di un ecosistema che è la base di tutto per cui io sono confidente che almeno a 4.000 ci ritorneremo poi vedremo nel tempo ecco il problema è la distribuzione della liquidità anche io su ethereum ovviamente sono un po' scocciato non vi dico di no però comunque resta il fatto che nel momento in cui bitcoin comincerà a spingere bene si porterà presso tutto ovviamente a questi valori non è bello vederlo avrei vi dico già su ethereum almeno i 2008 devono essere recuperati altrimenti non può partire nessuna fase paragoni rischiamo anche qui di aspettare molti mesi e ve lo dico per cui tanta pazienza su ethereum ha investito mezzo mondo anche i più grandi investitori cripto su ethereum hanno tanto è solo una questione di attesa se bitcoin comincerà quella fase parabolica quando comincerà la fase parabolica io ho detto allora avremo la distribuzione di denari sulle altre altcoin e allora lì ethereum potrà ripartire bisogna avere un po' di pazienza ethereum è la base di tutto quindi andarmi a denigrare ethereum come molti fan è totalmente sbagliato però questo è il mercato per ora è concentrato su sulle cripto su bitcoin aspettiamo questa fase parabolica pensi che il mercato delle cripto seguirà i vecchi cicli quindi bull market alvin e dopo etf sarà un mercato in stile azionale quindi niente più meno 90 per due tre anni sì non ritengo che questo è l'ultimo ciclo come quelli vecchi avremo un'ultima fase parabolica poi bitcoin magari arriva a 120 150 180 quello che sia spenderà si stazionerà tra 50 e 60 e poi diventerà un sp delle cripto sale lentamente ci arriveremo a 200 300 mila in futuro ma ci vogliono anni cosa che le persone non hanno mai capito su questo punto io credo che questo sarà l'ultimo bello il giro bello tonico poi diventerà un mercato ci sarà il ribasso e sarà un mercato più stabile sale lentamente il che poi bitcoin potrà essere veramente utilizzato a lungo termine allora lì quello diventerà a tutti gli effetti parte dei portafogli di tutto il mondo ecco come comprare un etf di sp si comprare tf di bitcoin si terrà nel portafoglio a lungo ecco non o fare i pack le solite cose diciamo la scommessa ne vale la pena tra virgolette scommessa che non è una scommessa però ci sta continuo il mio pack su ethereum io lo farei anche su bitcoin sugli indici ho già parlato antonio ma mi resta poco tempo per cui ti vedrai la registrazione scusami ma devo guardare qualche altro strumento e dollaro yen anche qui che ho combinato non lo so quasi aspettate che lo ricarico c'è stato qualche errore da parte mia non lo so vabbè vediamo un attivino perché ogni tanto mi rimbappino pure io con queste piattaforme quindi ci sta bisogno euro dollaro ma non ho fatto qui dai cerchiamolo usd yen ne devo parlare perché qui si profilano anche movimenti interessanti in futuro il dollaro yen vedete ha recuperato gran parte della caduta che avevo avvisato occhio se non cominciamo a recuperare i 146 la cosa può cambiare vedete alla fine ha fatto ha rotto il 50 per cento del fibo quindi recuperare il 50 per cento l'obiettivo adesso è vedere se addirittura rompe i 154 e può arrivare addirittura secondo me tra i 156 156 se non cambia se non vengono fatti degli aumenti dei tassi difficile vedere questo cambio gli accessi sono stati tolti ma se il dollaro rimane forte la politica monetaria della banca centrale giapponese non cambia per ora che il lo yen continua a salire è molto probabile la reattente invece solo sotto i 150 fino a quel momento gli short state attenti perché non funzioneranno poi che abbiamo più un commento sul natural gas no non ho avuto come vi ho detto non sono un esperto ne del natural gas ma ne parliamo un attimo senza problemi non sono un fan purtroppo qui la situazione rimane sempre la stessa alti e bassi in larga lateralità e io non ricordo bene i valori di cui abbiamo parlato l'ultima volta ma l'area che va da 1 80 e 2 dollari è un grande supporto ma allo stesso tempo l'area tra i 2 60 fino ai 3 dollari è piuttosto difficile vedete qui c'è stato un altro ribasso c'è stato un tentativo di rottura proprio in base annuale ma non ha funzionato quindi per ora rimane un mercato estremamente in range molto difficile da lavorare ovviamente non ci va di vedere cose stratosferiche però senza ombra di dubbio se dovesse tornare qui in questa zona tra i 2 30 2 40 e dovesse invertire si può magari fare un'operazione di breve ma sicuramente un mercato molto in range un po difficile a poche occasioni durante l'anno io almeno non è uno dei miei preferiti poi ci sono persone che lo adorano e quindi io lo capisco però nel breve non non è proprio il massimo questo lo scoprirete sulle modifiche lo vedrete giovedì 7 poi poi vi piacerà è una sorpresa quindi aspettate aspettate quella giornata e poi vedrete allora abbiamo fatto un po il punto della situazione abbiamo parlato ci manca solo il vecchio dax ma anche qui vedete abbiamo un supporto settimanale qui sui 18 mila e 7 siamo di nuovo in una zona di battaglia c'è stato un altro tentativo di rialzo ma nel complesso se non perdiamo 19 mila non so se riusciamo a fare noi massimi storici così velocemente 20 mila rimangono obiettivo ma è probabile dax qui entri un momento un po di alti e bassi c'è poco da fare che un mercato molto molto nervoso vedrete numerosi alti e bassi quindi per ora i mercati restano deboli quindi il tax magari cercherà di rompere questa zona ma nel complesso anche se dovesse arrivare qui cambia poco l'idea è che solo sopra il 19 mila e cinque avremo una nuova fase di alcista ok un commento su babba non ho molto da dire io su babba ho fatto il mio bel trade sono preso una parte della posizione non ho venduto tutto ovviamente aspettando un anno e passa ovviamente vi lo dissi già a suo tempo e le fasi di correttive devono essere viste come opportunità di acquisto che adesso come lavoreranno i fondi perché perché la cina continuerà a mettere soldini è ovvio che non poteva salire in una maniera verticale ma questa è una situazione potenzialmente interessante per gli acquisti o un'area di acquisto tra i 90 e i 95 se dovessi vedere un nuovo giro al rialzo aggiungere opposizioni ho venduto qualcosina perché il primo target era 120 ci siamo arrivati molto vicini e ovviamente qui è una zona ovviamente rompere i 120 vuol dire iniziale anche attaccare il vero obiettivo che è 150 però qui stiamo parlando di lungo termine quindi adesso che lui possa scendere un po ci sta tutto le fasi correttive ve lo dissi ci saranno adesso si tratta poi di aspettare il momento in cui poi ci si può rientrare ma l'intenzione delle acine per ora restano buone quindi se le politiche fiscali al di là di quelle monetarie continuano a babba la possibilità di arrivare oltre i 120 ce l'ha non ho molto da giugno anche qui ho aspettato più di un anno ovviamente mi sono portato a casa qualcosina per la speranza dell'attesa avendo fatto più del 40 per cento quindi cerchi il resto molte cose devono essere lasciate a lungo altrimenti non diciamo che altri 12 mesi su questo mercato io ci investirei poi si vedrà è ovvio che se cambiano le condizioni dovremo poi switchare su su altre cose e che più si sulla cina ci vuole molta pazienza che più vedo che ho risposto a tutte le domande ragazzi questo è un po il riapiro non ho non ho toccato particolari argomenti anche perché vi ripeto ce ne sto sentendo di corte di crude quindi sinceramente io preferisco aspettare le elezioni noi per ora saremo attenti ovviamente alla volatilità alla fed e ovviamente dopo i risultati di queste benedette elezioni per cercheremo di capire se il mercato ripartirà rapidamente o richiederà più tempo per ora ripeto qualunque ribasso stato assistendo assolutamente normale e dovremo aspettare le prossime settimane per comprendere se le cose veramente possono cambiare o meno ma i livelli meglio dati sono quelli io mi baso sempre su un'analisi oggettiva poi sì se vogliamo analizzare i dati macro che sono importanti molte cose non non si incastrano bene ma come operatore prima di tutto devo trovare le opportunità e come come tale devo seguire i livelli non le mie idee o le mie emozioni i mercati dovessero stornare non l'hanno fatto a settembre l'hanno fatto esattamente quando lo dovevano fare prima delle elezioni dalla prossima settimana vedremo che cosa succederà e poi da lì ricaveremo le nostre conclusioni e capiremo che cosa mese mese come facciamo sempre cosa farà ma come vi ho detto il mercato ha fatto noi massimi storici a metà di ottobre che cosa vi devo dire più è normale che adesso i mercati devono respirare perché come si fa a comprare in continuazione in questo modo vedete anche l'ora ritracciato un po la situazione è di attesa tutti sono pronti con il con il fucile monetario pronti ad entrare però vogliono vedere chi sarà il prossimo presidente vi ho fatto un discorso molto rapido e semplice che non vi volevo appesantire poi la prossima volta faremo qualcosa un po più approfondita quando avremo più dati a disposizione al di là delle statistiche altre cose che si sono utili ma li trovate dappertutto io volevo dare la mia opinione spero possa essere utile quindi vi lascio andare buon ponte a tutti spero che riposiate anche perché la prossima settimana sarà molto peggio di questa trading a top movimenti fantastici su tutti gli strumenti quindi ci sarà molto da da prendere e noi ci vediamo comunque sicuramente giovedì 7 poi vedrete sul sito per la scalping live è stato un piacere a presto e buona sera